Siamo molto orgogliosi di far parte di questo progetto, siamo una piccola azienda che nasce nel Valdarno da una vecchia fornace dove già gli stessi appartamenti che abbiamo, 15 appartamenti con 65 posti letto, prendono il nome dei vecchi operai della fornace. Tutti sono molto soggettivi in base al vecchio operaio. Noi diamo questa offerta dove il cliente può godere del panorama, del relax che abbiamo all'intorno e siamo contenti di far parte di questo progetto perché riusciamo a unire sia lo stesso progetto della birra con il relax e la nostra storia. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!